Via libera dagli uffici tecnici del MIT, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, alla convenzione tra Comune dell'Aquila e Danas che metteva al centro la gratuità della percorrenza del tratto di autostrada compreso nelle due direzioni tra i caselli di l'Aquila Ovest e l'Aquila Est. A partire dai prossimi giorni quindi fa sapere il Ministero tutti i mezzi che transiteranno su quel pezzo di autostrada saranno isentati dal pagamento del pedaggio. Una mossa che ha l'obiettivo di ridurre la congestione della viabilità urbana della città dell'Aquila. Intanto però la questione delle autostrade abruzzesi a 24 ed a 25 rimane comunque aperta sui fronti sia della revisione generale dei pedaggi sia anche della messa in sicurezza. I sindaci di Abruzzo e Lazio che stanno portando avanti questa battaglia dopo la mancata convocazione del tavolo tecnico ministeriale, la data avrebbe dovuto essere quella del 12 di aprile, hanno annunciato una nuova manifestazione di protesta. L'appuntamento è per il 19 di aprile a partire dalle 10 nel piazzale antistante la sede del Ministero Infrastrutture e Trasporti.